Ciao ragazzi, ci troviamo a Bitonto in provincia di Bari. Ci troviamo in pieno centro storico, ora vi facciamo vedere qualcosina. Questo è l'ingresso del centro storico, la porta baresana, ho chiamato anche l'orologio. E subito a fianco invece il torrione angioino. Questa è la chiesa del purgatorio. Siamo quasi arrivati alla cattedrale. Ecco la bellissima cattedrale di Bitonto, stupenda sia dentro che fuori. Pensate che al suo interno ci sono delle catacombe e una basilica paleocristiana. Vi è piaciuta Bitonto? La prossima volta vi portiamo a...